proviamo a pescare luci a mosca ma praticamente lo farò a morco streamers fai mi tu mai mettiamo un bello streamer mi ispira moltissimo questo qui questo qui con il testino del tipo anzi mettiamo quello dai bello anche quello trote luci questo e anche le trote le gamine che è detta provo black bash molto bene guarda qua non ci sono quelli però ci sono i luci con questo possiamo prendere un lucetto o un cavedano ha fame cavedano di borriscia non si conta ora attacchiamo la mosca tagliamo via il filo restante bene e ora facciamo due lanci stiamo facendo il power guarda questa macchina la galla la figa poi la parte la c'è anche da bagnarsi un buonissimo non puoi stare lì ma che vai alle carte? vai vai non è semplice prenderli dai dai che si può prendere dai dai che? ti ho detto qua Morgan bravo bravo vado lì va bene eh si vede poco si vede vado lì che si vede dai vieni è piccolino però bello 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 veramente sarà sul mezzo chilo ma è eh quattro etni io le chiro vado a canna capo si ah ma che bello bello uccetto si proprio bello guardiamo un pochino guarda che è ma che è il caso guarda che è quello che si vede guarda che è il caso guarda che è il caso ma che è il caso Luccio Mosca, forca puttana, lei è aggressivo. Per gli far del male. Beh, devi andare a fare il bisogno di tutto. Io sono stato accantato. Mosca tattica. Buono, inquadro. Rilasciamo il Luccio, fammelo rilasciare. Eh, è un ma... Dai, dai. Inquadro, eh. Sì, sì. Rilasciamo il Luccio. Benissimo. Benissimo. Sì, sì. Ora se ne va.